Sì certamente noi abbiamo con il convegno che abbiamo fatto il 6 novembre ripreso il ragionamento intorno al biodigestore che era stato sospeso dopo anni di discussione perché si doveva costruire nel Fanese e rimaniamo dell'opinione che il biodigestore si debba fare perché secondo noi è un impianto necessario alla nostra provincia perché i rifiuti che facciamo qua che differenziamo in maniera molto buona vengano lavorati anche qui da noi senza portarli fuori nelle altre regioni con dispendio ovviamente economico forte che poi ricade sui cittadini e anche con inquinamento perché tutti i camion che partono dalla nostra provincia per andare in Emilia o addirittura in Veneto come accade oggi naturalmente inquinano e io sono solita dire che la CO2 non ha dei confini quindi non possiamo pensare che è meglio che vadano fuori piuttosto che rimangano qui perché qui inquinano e là no. E poi per noi molto importante è tutto il ragionamento sulla economia circolare noi sappiamo che dai rifiuti se lavorati e trattati nel modo giusto quindi con il biodigestore anaerobico possiamo ottenere il bio e il mentano e il compost che possono poi essere riutilizzati qui nella nostra provincia per il trasporto per quanto riguarda il biometano e il compost in agricoltura che sostituisce tutto quello che è invece chimico e quindi mi sembra che questa sia veramente una cosa molto buona ma d'altro canto ormai non lo diciamo solo noi lo dicono tutte quelle forze ecologiste e soprattutto la comunità europea che ci sfrona in questa direzione e adesso dobbiamo dire anche il governo Draghi che addirittura ha pensato giustamente noi diciamo e lo diciamo con molto favore ad un ministero per la transizione ecologica questa è la direzione verso la quale noi dobbiamo andare per smettere di inquinare. Per quanto riguarda invece la parte dei cittadini quindi ci riferiamo anche ad una parte che è contraria l'idea è quella di creare una consulta. Sì noi anche questo l'abbiamo detto dall'inizio noi siamo convinti che il biodigestore come qualunque altro iniziativa pubblica di una certa consistenza e di valore per il territorio debba avere la partecipazione dei cittadini perché i cittadini prima di tutto si devono rendere conto di che cosa si vuole fare e per che cosa quindi i vantaggi che una simile impianto può portare però devono anche partecipare al processo e di costruzione per vedere che venga fatto nel giusto modo e poi anche di gestione perché anche la gestione è importantissima quindi la partecipazione secondo noi dovrebbe passare attraverso la costituzione di una consulta dove ci sono rappresentate le organizzazioni sindacali più rappresentative, imprenditoriali, i singoli cittadini che vogliono impegnarsi a seguire questa importantissima per noi impianto e questo modo anche di agire. Questo mi ci sembra molto democratico e noi siamo per costituirle la consulta fin da subito. Un'ultimissima cosa nel dibattito generale sulla questione, negli ultimi giorni si è inserita anche l'ARPAM, un suo pensiero su questo? Il dottor Marchetti che è il direttore regionale dell'ARPAM che come tutti sanno è un'organizzazione preposta al controllo proprio dell'ambiente, della salubrità, degli impianti ha detto che il biodigestore è assolutamente un impianto ottimale, innovativo e utile, non danneggia la salute e non danneggia l'ambiente. Secondo lui attualmente è il sistema migliore per la lavorazione dei rifiuti, quindi noi siamo molto contenti che questo giudizio dell'ARPAM collima con il nostro giudizio e quindi questo ci fa ulteriormente stare sereni.